Nei porti toscani di Livorno, Piombino, Marina di Carrara, Viareggio, Porto Santo Stefano, dell'Isola d'Elba, del Giglio e di Capraia, sarà presto possibile praticare la pesca sportiva e ricreativa. È la prima iniziativa del genere in Italia, formalizzata a Firenze attraverso un protocollo d'intesa siglato dalla Regione, dalle associazioni dei pescatori FIOPS, FIPSAS e Arcipesca FISA, dalle autorità portuali regionali del Tirreno Settentrionale e del Mar Ligure Orientale e dalla Direzione Marittima della Guardia Costiera. Noi speriamo in questo modo di fare da per pista perché l'obiettivo del protocollo è un obiettivo importante, quello di consentire lo svolgimento della pesca sportiva amatoriale all'interno dei porti in sicurezza per il pescatore che l'esercita e senza intracciare le attività che sono proprie di un porto. Resta fermo la necessità che anche questa attività venga svolta nel rispetto della legge, quindi la Guardia Costiera dedicherà particolare attenzione a quelli che sono gli attrezzi utilizzati, a quelli che sono i quantitativi, alle specie ittiche che vengono pescate, ma in questo senso come ho avuto già modo di ribadire le organizzazioni di categoria sono assolutamente come fosse disponibili e sono una garanzia per che questo avvenga in questi termini. Le aree dove la pesca sportiva sarà autorizzata saranno segnalate da appositi cartelli. La prima fase di attuazione del protocollo sarà sperimentale e durerà per 15 mesi. Noi abbiamo tentato, come FIPSAS, abbiamo tentato tante volte di fare accordi di questo genere e siamo sempre riusciti a fare degli accordi spot, cioè degli accordi con la singola capitaneria, con la singola autorità portuale. Ci voleva la regione, una regione, in questo caso la regione toscana che io ringrazio naturalmente, per riuscire a mettere insieme un qualche cosa di strutturale. In Italia la pesca sportiva coinvolge almeno 2 milioni di persone.